Dal 30 maggio al 2 giugno a Carloforte torna il Giro Tonno, un angolo incantato di Sardegna, il rito della mattanza e una sfida tra chef da tutto il mondo. E ancora degustazioni, incontri e i concerti degli stadio e di Demo Morselli. Dal 30 maggio al 2 giugno a Carloforte, isola di San Pietro.